Palazzo Fulcis celebra domani, venerdì 26 gennaio, il suo primo anno di attività e lo fa in grande stile coinvolgendo tutta la città. È stato un anno veramente intenso in cui abbiamo riconfigurato completamente l'offerta museale della città. Abbiamo avuto circa 30.000 visitatori, abbiamo realizzato tre mostre, tra cui quella inaugurale dedicata alla Madonna Barbarigo dall'ermitage di Tiziano e quest'ultima invece dedicata alla donazione paganicesa di Brusselon e inoltre una mostra fotografica di Georg Tappainer. È stato un anno in cui abbiamo fatto tante attività come visite guidate, anche serali, concerti, conferenze, attività didattiche. Non solo Belluno e il Veneto, ma il museo riesce ad attrarre numerosi turisti da tutta Europa. Abbiamo verificato anche delle tendenze molto positive dal resto d'Italia e anche dall'estero, per cui un 8-9% di provenienza anglofona, che è un dato che ci ha un po' stupito, e anche un 5% dalla Germania. Possiamo dire che Palazzo Fulcis sia diventato davvero in questo anno la tanto spiccata casa della cultura per la città di Belluno? La cultura aveva bisogno di spazi diversi e soprattutto il museo, dopo 150 anni, aveva bisogno di avere finalmente una collocazione e un tipo di allestimento aggiornato e moderno con i tempi. E quindi Palazzo Fulcis offre queste due cose, una cornice straordinaria. Varie saranno le iniziative proposte per festeggiare la speciale ricorrenza. Alle 3 e mezza di domani sarà possibile, a orari fissi, incontrare uno dei nostri bravissimi operatori didattici e per circa mezz'ora, in vari luoghi del museo, approfondire le nostre collezioni. Tutto questo sarà accompagnato anche da alcuni momenti musicali, gentilmente offerti dalla Scuola di Musica Miari. E poi, a partire dalle 6-6 e mezza, ci sarà un momento musicale in cortile. Poi sarà possibile farsi una foto con la cornice già utilizzata per la Madonna Barbarigo di Tiziano e abbiamo sviluppato tutta questa campagna di comunicazione dicendo il nostro capolavoro sei tu, quindi far sì che i cittadini sentano il museo come proprio.